Musica Sono veramente contento di questa giornata muoviti muoviti che abbiamo fatto qui a Todi dove è nata l'AFA in U2, già da dieci anni fa. È l'organizzazione che mi ha permesso il passaggio dal lavoro alla pensione e mi ha aperto un mondo. Questa giornata conclusiva di un percorso lungo dieci anni ci ha visto qua al palazzetto dello sport di Todi con 400 persone praticando l'attività fisica adattata. L'AFA per me è tutto, mi ha ridato la mobilità della spalla, mi ha ridato la mobilità delle gambe, la forza degli addominali e sto veramente bene. È stata veramente un'esperienza emozionante che ha messo in luce le potenzialità di questo progetto e speriamo vivamente che questa giornata possa riproporsi. Movimento, libertà, sgombero di mente, socialità, socializzazione è una cosa importantissima. È stato un successo, una gioia e un'opportunità per il futuro per crescere ancora di più e coinvolgere ancora più persone a praticare il movimento che porta alla salute. Questi esercizi sono molto utili per la schiena, utili per stare insieme, per socializzare e per mille ragioni e poi fa molto bene. Penso che sia un momento di aggregazione importantissimo, attività fisica, salutare per le persone, non solo per quelle che ancora sono attive ma anche per quelle che hanno qualche malattia che ne riduce la mobilità. Ad oggi siamo felicissimi perché l'attività va benissimo, quindi muoviti, muoviti.